L'Aula di Palazzo del Pegaso approva all'unanimità due mozioni per la difesa e la valorizzazione del polo siderurgico di Piombino. Approvata dal Consiglio è una proposta di legge che prevede di assegnare direttamente ai comuni geotermici la quota derivante dai contributi. Dal 13 novembre al 16 gennaio la quarta edizione di Empoli, città del Natale. A Figline Valdarno torna autumni alla fiera dedicata ad agricoltura, ambiente e alimentazione. Il Consiglio regionale ha votato all'unanimità due mozioni, una presentata dal Partito Democratico e l'altra dal gruppo Fratelli d'Italia per la salvaguardia e il rilancio del polo siderurgico di Piombino. Come spiegato dal primo firmatario Gianni Anselmi, l'atto non si occupa di siderurgia in quanto tale, ma di tutte le attività economiche che si intersecano con essa per una visione complessiva di un comparto che riguarda non solo la Toscana, ma l'Italia tutta. Da qui l'importanza di intervenire sul risanamento ambientale, sui temi infrastrutturali e sulle relazioni con il porto, sul ruolo del demanio e soprattutto sulle opportunità per i lavoratori, così da rileggere e qualificare un sito industriale che insiste su 900 ettari di territorio, ha sottolineato il Consigliere. Noi mettiamo una serie di obiettivi che mettono insieme il futuro dello stabilimento, direi degli stabilimenti, perché accanto c'è la Magona. Secondo una visione industriale siderurgica evoluta, con un forno elettrico, con una produzione flessibile e ambientalizzata di acciaio. Il tema del risanamento ambientale, quindi le bonifiche, l'economia circolare e il riuso delle materie seconde. Il tema delle relazioni con il porto e il tema degli spazi, quindi liberazione degli spazi per la diversificazione economica del territorio e l'insediamento di nuove attività produttive magari a più basso impatto ambientale. E poi c'è il tema infrastrutturale con la bretella, che partirà nel primo tratto, fra breve, è già stata appaltata. Nel secondo tratto abbiamo conquistato il finanziamento per l'ultimo miglio del PNRR. Condivisione anche dal Consigliere Torselli per una mozione che tocca temi importanti, dalla richiesta di aiuto al Governo per l'unico sito che produce rotaglie, al forno elettrico che può rappresentare un'eccellenza per l'Italia, passando dalla salvaguardia del patrimonio manifatturiero del nostro Paese. Mi fa piacere che il Consiglio regionale tutto all'unanimità ribadisca un concetto, ovvero che Piombino è un sito siderurgico che ha le potenzialità per essere eccellenza nazionale ed eccellenza internazionale. Perché Piombino ha tutte le carte in regola, non, come dicevo prima, per essere salvato per elemosino o per gentile concessione. Piombino può diventare il primo sito siderurgico d'Italia e forse tra i primi d'Europa ad avere un forno completamente elettrico da un milione e mezzo di tonnellate annue che ha una produzione incredibile e che classificherebbe il sito di Piombino come un'eccellenza non solo da un punto di vista produttivo, ma anche da un punto di vista della transizione ecologica, visto che in questo momento si fa un gran parlare di transizione ecologica. Cioè immaginatevi un sito siderurgico, nell'immaginario collettivo, è quanto di più impattante e inquinante possa esistere, che lavora ed è l'unico sito in Italia per esempio che produce rotaie, tanto per fare un esempio, che ha una produzione di tutto rispetto e che lo fa in maniera ecologica. Per il consigliere Landi che si è espresso su entrambe le emozioni l'importante è dare un segnale unanime. Due atti importanti, sia della maggioranza che dell'opposizione, per far sì e dare un segnale che il consiglio regionale spinga affinché il governo trovi una soluzione adeguata. Questo credo che sia necessario anche con un tavolo che comprenda tutte le amministrazioni e i vari ministeri interessati. Chiaramente in questo anche il comune di Piombino sta svolgendo una posizione, una parte molto positiva con l'attuale pianificazione urbanistica e il piano strutturale che sta ponendo in essere. Nella mozione è previsto anche l'impegno a chiedere al governo un'attenzione specifica al sito di Piombino nella dislocazione delle risorse del PNRR destinate alla transizione ecologica dell'industria. Attenzione del governo che per Irene Galletti non sta mancando. La situazione è difficile ma nelle mani della nostra viceministra Todd che nel consiglio aperto a Piombino il 14 settembre ha annunciato l'ingresso dello Stato con Invitalia nella questione dell'acciaieria di Piombino perché lei stessa, come ha condiviso con me in alcuni incontri che abbiamo fatto, è ben consapevole della rilevanza del sito di Piombino per l'acciaio e pretenderà per esso la stessa attenzione che è stata dedicata al sito di Taranto. Quindi massima attenzione ancora del governo e del Movimento 5 Stelle. Siamo costantemente in contatto con la viceministra per arrivare a una soluzione positiva dell'esito di una situazione che ormai da troppi anni purtroppo prende banco sulla costa toscana e in tutta Italia. Geotermia, le risorse dai contributi direttamente ai comuni La quota parte delle risorse derivanti dai contributi geotermici e destinata ai comuni geotermici sarà loro assegnata direttamente. Lo stabilisce una norma transitoria per garantire che questo accada nel periodo di tempo necessario alla trasformazione del consorzio COSGIG in società in house della Regione. La proposta di legge è stata illustrata in aula dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico e l'area Bugetti e approvata a maggioranza con 34 sì e due voti contrari del Movimento 5 Stelle. Come spiegato da Bugetti, tale quota in via ordinaria è destinata al consorzio COSGIG e con l'atto normativo in via transitoria ai comuni geotermici sono assegnate direttamente anche le risorse destinate a COSGIG quale corrispettivo per l'attività di gestione del fondo attività che in fase transitoria non sarà svolta dal consorzio. E' ne stabilito inoltre che ai fini dell'erogazione delle risorse la Regione stipuli con i singoli comuni geotermici appositi accordi per definire modalità e tempi di trasferimento degli stessi contributi assegnati mediante deliberazione di giunta regionale. Si tratta di una norma transitoria che la Regione Toscana ha approvato questo pomeriggio riguardante la possibilità per i comuni geotermici quindi tutti i comuni che ricadono nell'area della geotermia di poter introitare le risorse che derivano appunto dalla geotermia per poter disporre di queste risorse da spendere e progettare e fare investimenti sul territorio. E' una norma transitoria perché la Regione sta già lavorando e ci siamo dati un tempo al 31-12-2022 per ragionare con COSVIG che è la società che si occupa della riscossione in auso quindi far sì che ci sia una società gestita dalla Regione Toscana. Il tempo per gli approfondimenti necessario è un tempo piuttosto lungo quindi si parla come dicevo del 31-12-2022 nel frattempo la norma transitoria consente a quei comuni di poter beneficiare ugualmente delle risorse derivanti dalla geotermia. Per il consigliere Landi della Lega si tratta di un atto importante. Ieri abbiamo votato un atto sulla geotermia molto importante seppur un atto tecnico perché riguarda la possibilità per i comuni di attingere finalmente ai fondi che li riguardano. Sono due ambiti molto importanti nella nostra Regione perché sia quello della Val di Cecina sia quello della Miata sono due aree interessate che garantiscono alla nostra Regione il 30% dell'energia sul nostro territorio e questo potrebbe anche essere ampliato. È chiaro che qui in prospettiva dobbiamo anche fare un lavoro insieme positivo perché la gara che dovrà essere prevista per il 2024 e se non si riesce a fare una gara, magari avere una proroga sicuramente le concessioni devono avere una continuità perché questo settore possa andare avanti e anche perché no, crescere e svilupparsi visto quello di cui stiamo parlando con le energie rinnovabili in Toscana sicuramente noi abbiamo una ricchezza molto importante. Cata invece Irene Galletti del Movimento 5 Stelle per la quale la geotermia è una grandissima risorsa ma bisogna sfruttarla bene. Bisogna capire quale sarà il lavoro del COSVIG le attività che faranno, quanto impatterà nel bilancio perché la geotermia bisogna dire chiaramente una cosa c'è un tipo di geotermia che aiuta l'ambiente quella bassa entalpia, quella delle piccole impianti compresi quelli domestici e sono sicuramente una grandissima risorsa e questa va sfruttata ci sono quelle invece che fanno geotermia un tipo di geotermia che è speculativa che il guadagno è soltanto sugli incentivi che vengono presi dal governo quella va evitata e soprattutto bisogna fare molta attenzione alla geotermia perché a seconda delle zone geografiche su cui essa è presenta problematiche differenti in alcuni casi è completamente innocua anche dal punto di vista ambientale in altri casi come sulla miata abbiamo visto aver dato anche gravi problemi su cui uno studio, lo studio in vetta aspetta ancora di vedere alla luce i risultati per capire davvero quale ne sia l'impatto quindi prudenza perché la geotermia è una grandissima risorsa ma bisogna saperla sfruttare bene deve essere sfruttata nell'interesse della popolazione e dell'ambiente e soprattutto bisogna molto fare attenzione a dove questa viene praticata una festa lunga due mesi e in Policittà del Natale tornano i weekend dal 13 novembre 2021 al 16 gennaio 2022 la città vivrà il magico mondo del Natale con una grande nevicata che imbiancherà tutta piazza farinata degli uberti con il Luna Park e la pista sul ghiaccio ma anche con il trenino turistico per le vie illuminate del centro le proiezioni architettoniche e mercatini di Natale e simbolicamente sarà installato un albero in ogni frazione un'iniziativa che segna il momento della ripartenza come sottolineato dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo è qualcosa di davvero stupendo ho avuto l'opportunità di vederla due anni fa perché lo scorso anno non si è potuto svolgere è un segnale di speranza e di ottimismo che al di là delle convinzioni religiose di ciascuno di noi ci permette di guardare davvero al futuro in maniera differente il Natale è questo, è la festa dei più piccoli è il modo con cui noi vogliamo guardare con speranza ed ottimismo al prossimo anno io vorrei solo ricordare lo scorso anno che cosa significava per tutti noi avevamo saputo che stavano per arrivare i vaccini però non c'erano, non c'erano ancora non c'era la possibilità e la speranza di tornare a rivivere insieme di poterci guardare negli occhi quella socialità che tanto ci è mancata ecco, rivedere il Natale a Empoli mi dà quella speranza che questa socialità può continuare ad esserci e se questo davvero avviene potrà continuare a avvenire e grazie soprattutto alla vaccinazione a cui tante cittadine e tanti cittadini toscani hanno dato la propria disponibilità l'anno scorso abbiamo fatto Natale in tono minore per dargli continuità ma quest'anno torniamo ai livelli dell'edizione del 2019 che per noi era stata un'edizione di grande successo quest'anno per venire incontro alle necessità del commercio allunghiamo il periodo aggiungendo due fine settimana in più nel 2019 ci furono 600.000 presenze per questa edizione ce ne aspettiamo almeno 100.000 in più ha detto Antonio Ponzo Pellegrini assessore allo sviluppo economico del comune di Empoli quest'anno allunghiamo perché ovviamente la sofferenza da parte dei commercianti si è sentita in questo anno quindi allunghiamo quello che è il periodo del Natale aggiungendo due fine settimana in più nel 2019 perché questo è il punto di riferimento su cui possiamo basarci ci furono 600.000 presenze quest'anno ce ne attendiamo almeno 100.000 in più quindi 700.000 con una spesa a persona di almeno circa 30 euro che è una spesa accessibile questo perché stiamo andando incontro alle necessità del commercio vorrei sottolineare che tutte le associazioni di categoria hanno fatto nucleo e hanno fatto squadra perché si avverasse questo evento questo è un progetto che coinvolge non soltanto il commercio ma anche la cultura e il turismo ha aggiunto l'assessore alla cultura e turismo di Empoli Giulia Terreni come amministrazione ovviamente siamo super felici di poter riospitare la nostra città il Natale e tanti cittadini non soltanto della nostra città ma anche di tutta la regione toscana questo è un progetto che appunto coinvolge non soltanto il commercio ma anche la cultura e il turismo noi facciamo parte di quello che è l'ambito dell'Empolese Valdelsa e la nostra regione in questi mesi ha lavorato moltissimo per la promozione turistica ci fa piacere che Empoli possa rientrare in qualche modo nel periodo diciamo meno turistico è quello della dicembre perché Empoli non è poi una meta conosciuta per il turismo possa rientrare invece nelle tante prenotazioni nelle tante visite di cittadini non soltanto della nostra regione ma anche dalle regioni esterne appunto confinanti ma non soltanto tempo di autumnia dopo l'anno di stop imposto dalla pandemia torna autumnia la fiera dedicata ad agricoltura ambienti e alimentazione in programma nel centro storico di Figline Valdarno dal 12 al 14 novembre la salute che viene dalla terra è lo slogan scelto per questa 22esima edizione ricco il programma dallo spettacolo tra i fornelli dei cooking show alle buone pratiche della filiera corta dalle antiche tradizioni artigiane hanno sguardo alle nuove opportunità della transizione ecologica è ancora il grande mercato dei prodotti agroalimentari del territorio e di terre più lontane ma anche la fattoria degli animali è la novità assoluta della piazza della salute dove si potranno effettuare visite mediche specialistiche gratuite per tutti autumnia rappresenta un momento di aggregazione di tutto il Valdarno e non solo quest'anno dopo lo stop forzato della scorsa edizione ritorniamo in presenza il comune di Figline Incisa la riorganizza nel modo tradizionale ci saranno oltre 100 espositori comprese le associazioni del volontariato che rappresentano le eccellenze no gastronomiche di questa parte della Toscana detto il consigliere regionale Cristiano Benucci autumnia rappresenta un momento di aggregazione di tutto il Valdarno e non solo quest'anno dopo lo stop forzato della scorsa edizione ritorniamo in presenza il comune di Figline Incisa la riorganizza nel modo tradizionale ci saranno oltre 100 espositori comprese le associazioni del volontariato che rappresentano sono le eccellenze no gastronomiche del Valdarno e insomma di questa parte della Toscana davvero un bel momento di valorizzazione dei prodotti tipici dell'enogastronomia e poi anche di valorizzazione di un paesaggio bello come quello delle colline del Pratomagno e del Valdarno che sono una parte bella lo ripeto della nostra Toscana quindi una buona ragione per visitare Figline Incisa e per visitare Autumnia con i colori dell'autunno dell'agricoltura e i prodotti autunnali che sono una peculiarità del nostro territorio L'ingresso ad Autumnia è gratuito nel rispetto delle regole anticontagio il programma completo è sul sito autumnia.it Per noi è davvero un'emozione poter presentare nella sede del Consiglio regionale la ventiduesima edizione di Autumnia dopo un anno difficile di stop ringrazio davvero il Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo e il nostro consigliere regionale Cristiano Benucci per questa opportunità perché Autumnia racconta molto del nostro territorio e della Toscana più in generale si parla di enogastronomia si parla di territorio in senso ampio di ambiente di agricoltura ed è la nostra manifestazione che ci permette di portare nel centro storico di Figline tutte le tipicità e le eccellenze di un territorio ampio come quello Fiorentina e Toscano ed è anche un'occasione per tornare in presenza finalmente dopo tanto tempo e le adesioni delle tante attività economiche che saranno in piazza ci significa anche che questa voglia di ripartenza non l'hanno solo le istituzioni ma ce l'ha la comunità nel suo complesso quindi l'invito è a venire a trovarci a Figline Incisa proprio nel prossimo fine settimana per essere nuovamente insieme in una manifestazione così importante Grazie a tutti Grazie a tutti